La forestazione ha approvato il programma regionale e il piano attuativo annuale, la Calabria prima regione ad adeguarsi alla nuova normativa nazionale in materia. Il nuovo programma è stato approvato dalla giunta preseduta da Roberto Chiuto, dando il via libera agli strumenti di pianificazione proposti dall'assessore delegato Gianluca Gallo. Nella forestazione calabrese finalmente non solo emergenze, quindi non solo il rincorrere le scadenze mensili degli stipendi dei lavoratori del settore, ma anche una programmazione concreta attraverso il Dipartimento e attraverso Calabria Verde. L'approvazione del piano attuativo, per il quale sono stati stanziati per ora 156 milioni, ma ne saranno necessari altri, e soprattutto l'approvazione del programma forestale regionale, che vede la nostra regione la prima in assoluto a mettersi in linea con la normativa nazionale, sono segnali importanti ed interessanti su un settore, sul quale insieme al Presidente Occhiuto vogliamo puntare molto come Regione Calabria.